Ce lo dici, come ti chiami? Come ti chiami? Chi sei? Ce lo dici chi sei? Settimo. Settimo. Settimo di cosa? Giovane. Giovane, sentito pulito proprio. Sì, giovane sì. Quanti anni hai? Quattro. Poi arriva a voce brutta. Perché sei qua? Ti ha detto scendi. Ma no, no. Dentro una frase però ti ha detto scendi. Ma mi conosci? Appartieni alla mia famiglia? Dritto. Te lo richiedo, me non puoi dire perché sei qua? Sei la stessa anima che seguiva anche i nostri amici Simone, Marco e Jack? Io ho capito, no altri. Ma gli altri sei? Stato il rumore. Sopra, poi ha detto. Non c'è niente. E no, c'è il tetto. Arrampica. 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 No, no. Mi arrampico proprio sul tetto. Arrampico. No. Sarà lei che si arrampica. Per quello che tutti quei non vuoi. E sei una donna? Come fa a sapere che è una donna? Lei? Ah, non lo so. L'istinto proprio. Mi è uscito naturale dirlo. E chiediamolo, sei un uomo o una donna? Sei una bambina o un bambino? Ragazzi, mi sta camminando. No, no, erano proprio due passi, eh. Ilaria. Si chiama Ilaria? No, mi sembra di aver sentito Ilaria. Dovemmo riascoltare. Di nuovo qualcosa e più giù. Guardalo. Guardalo. Ma cosa ha detto? Faffa. Faffa. Non so che c'è qualcosa. Paolo, Paolo c'è qualcosa. C'è proprio stato un verso. Eh, lo so. Puoi spegnere questa cosa che non sento? Un secondo. Paolo. Oh. Cos'era? Non lo so. C'è stato un momento, poi dimmi tu. Sembrava anche un'interferenza. C'è qualcosa nel giardino? Sì. 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 Un secondo. Io voglio solo sapere se è in questa casa o no. Perché io non credo che sia in questa casa. Non credo che sia in questa casa. Non credo che sia in questa casa. Però perché vuoi? Cosa vuole? Perché stai soffitta? Vuoi qualcosa da noi? Che cosa vuoi? Filma. Stiamo filmando. Sto filmando. Domani. Pimot. La riparte di nuovo. Come l'altra sera con la tavola. Vuoi che andiamo da qualche parte? Aiutami. Cerca. Tetti. Paolo. Forse Jack. Madonna, sta chiedendo tanto. Pimot. Di nuovo. Rispond, rispond, rispond. Perché va per il soffitto? E' una minaccia. E' una minaccia? Vale. Ho i brividi fino alla schiena. E' una minaccia. 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 Ha cambiato, ha cambiato tutto. Sì. Ha brillato. Ha brillato. Visto? È arrivato qualcosa. Via. Via. Presto. Subito. Andiamo. Va benissimo. Sì. 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 Sai che sensazione ho? Eh? Di una che ci sta chiedendo tremendamente aiuto. Ma? E che sta provando in tutti i modi. Sta venendo in tutte le indagini che mandiamo. Sta interferendo in tutte le indagini. Ma c'è qualcuno che con altrettanto fragore cerca di interrompergli questa cosa. Ma chi cavolo è? Non lo so. Hai capito, no? Sì, ho capito. Un buono e un cattivo, no? Date via. Eh, proviamo a fare come dicevo. Domani registriamo. Ma se non vi è? Si vede che domani dovrà succedere qualcosa. Come adesso la sensazione che se n'è andata? Sembra che arriva. Sembra che arrivi e poi... Non vive qui. No. Non vive qua. Non è radicata questa nuova. No. Assolutamente. Io te l'ho sempre detto, io qua sto bene, sto bene, si sta bene qua dentro. Non ho brutte sensazioni. Però questa sensazione che sta urlando qua. Ogni tanto sembra che arrivi. E secondo me arriva ogni volta che noi facciamo un'indagine oppure un rituale. utilizziamo un qualche strumento per avere una comunicazione, no? Per aprire. Magari noi ci mettiamo in contatto con una determinata anima, come l'altra sera Anna, che era legata a quel luogo là. Però in mezzo magari si intrufola lei, io non lo so. Tanto facciamo come lei ha detto, o lui o loro che siano, domani teniamo le videocamere accese. Tanto ormai da quando tu hai detto di tenere le videocamere accese le stiamo tenendo tutti sempre. Quindi proviamo a vedere. Ok. Adesso andiamo un attimino sotto e facciamo un bel giretto a vedere se è tutto a posto. Sì, 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 assolutamente. Allora. Stai attento a dove metti i piedi. Che senso? Eh, piano. Bisogna riattivare la luce. Oh. Santo cielo. È finito. Bene, adesso vieni che andrò a prendermi le ciabatte. C'è inutile la luce. Adesso si può. Ok. Sei contento? Sì, sono contento. Perché vedi che c'è sempre qualcosa da scoprire. Sinceramente. Hai ragione. Hai ragione. Cioè magari questa, non magari, io sono convinto che questa ha bisogno d'aiuto. Ha bisogno d'aiuto. Sì. E solo noi glielo possiamo dare. Solo noi. Non so, io ho... Come allo stesso modo ti ho detto prima che... Sembra anche ostacolata però, da qualcuno. Potresti anche avere ragione. Non lo so, domani registriamo. Domani registriamo. Sai che novità però, registriamo. Teniamo le antenne dritte. Tanto vedremo anche gli altri, gli diremo agli altri cosa abbiamo fatto, lo faremo vedere. Poi adesso vado a riascoltarmi la break. Ah sì, anch'io. Ok. Che palle! Cosa che palle? Sto sporcando le ciabatte. Che palle lo dico io, mi aspetta Detective Pino, cos'è che stavi guardando? Non stavo guardando niente. Stavo cercando qualcosa, ma guarda! Mi è sporcato tutte le... Non è vero che mi hai. Potevo anche cambiarle, sono anche stupida io. Va bene. Va bene. Vado a finire di pulire. Sì, io comincio già a scendere. Va bene. Ora. Vado a finire.